La conquista della Luna non ha perso il suo fascino alla Cina, manda un coniglio sul satellite della Terra. Dalla base di Xi Zhang, Pechino rilancia il suo programma d'esplorazione nello spazio, la sonda Chang'e 3, trasportata da un razzo a lunga marcia, è decollata alla volta della Luna. Scopo della nuova missione è portare sulla superficie lunare il robot a sei ruote chiamato Yutu. Nella tradizione cinese è il nome del coniglio che accompagna la dea Chang'e verso la Luna. Il mezzo avrà il compito di esplorare la zona del mare Iridium. Con questa missione la Cina è il primo paese a portare una sonda sulla Luna dopo l'Unione Sovietica nel 1976. Al progetto collabora anche l'ESA.